I professionisti sono ora tutelati da una legge che regola i loro compensi secondo specifici parametri. Il provvedimento approvato in Consiglio regionale mira anche a contrastare l'evasione fiscale. Massimo Tinagli. Approvata all'unanimità con 36 voti favorevoli, la proposta di legge sull'equo compenso e tutela delle prestazioni professionali. Obiettivo del provvedimento la promozione e la valorizzazione di specifiche attività lavorative con particolare riferimento ad incarichi o appalti affidati dalle pubbliche amministrazioni. I liberi professionisti nel Lazio sono quasi 175 mila, spesso costretti a subire concorrenza ribasso e clausole vessatorie a discapito sia dell'opera prestata che del reddito. Reddito professionale che dal 2005 al 2017 ha registrato un calo del 19%. Una legge che è stata costruita dal basso con tutti i professionisti, sia quelli rappresentati dagli ordini che quelli non rappresentati da nessun ordine o collegio. Con il voto di oggi si stabilisce il principio dell'equo compenso e quindi si ridà la giusta dignità ai professionisti che svolgono tali attività e garantiscono tali prestazioni. Con questa legge che entrerà in vigore entro 60 giorni, i compensi professionali saranno determinati sulla base di parametri stabiliti da specifici decreti ministeriali. Parametri che verranno utilizzati come criterio di riferimento per determinare l'importo a base di gara. Le nuove norme contribuiranno anche a contrastare l'evasione fiscale.